dai iniziamo la va non perdiamoci non perdiamoci in chiacchiere 20 0 si riparte da 20 0 quindi muoversi la fottuta la fottuta weekend league però vanno i tre proprio qui ma io nella prima partita mi trovo contro ronaldo seum bello baby nel be a seum è uno mamma mia che brutto gameplay ragazzi margai fatto 20 0 altrimenti me la rido e come se me la rido e sono due meriggio a lei comunque tra due o tre mesi vado ad abitare in canada vuoi che dica qualcosa a quelli di lei di persona magari sì signor chi cazzo che va abitare da piva abitare in canada a da un argento una mia scelta o da un argento una scelta della cia però facciamo così che però mantenga le mantenga link va bene vincere è l'unica cosa che conta media buon pomeriggio salve buon pomeriggio salva buon pomeriggio salvone e la prima è andata anche oggi porca troia peccato per il gameplay ragazzi c'è veramente un gameplay terrificante ara nuva ara nuva poservino se vuoi brodo vegetale rete bebe c'era un mio amico che era il mio compagno di squadra che era particolarmente stupido e raga un giorno arrivò arrivò allo spogliatoio con lo shampoo al cioccolato giuro che si è messo a bere lo shampoo al cioccolato cioè si è messo lì a mangiarlo ciao giando alla porta credo che il ct open sarà la stessa cosa quando vedrà le tue condizioni bro scoc ma qua quittiamo devono giocare tutta la partita la banda gastrica 30 minuti dopo io non mi ricordo che fine abbia fatto ero veramente piccolo ora o cazzo il mot porcaccio di lero 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 bandolero bandolero che sta facendo se ho appena segnato con il passaggio la terra in fiamme non è puramente casuale sat era cos'è un sat era un pokemon tipo andiamo un'altra cigno di sarajevo for the content 38 0 matt allen vai e qui cambia il mood però è partita per il livello 1 non la sarà partita in renouve eccolo qua e qua che deve fare gol ora ed in e qua che deve fai questo quello che deve fare dinceco ragazzi guardate che quando parte dritto è difficile da fermare quando parte dritto non sto scherzando e vaffanculo va guarda il cigno va come procede bravo cigno che culo che culo che ha il vlogox questa meritavi di perdere non credo manuele 39 0 il game per il 40 0 cigno di sarajevo questa qua l'avrebbe testa dentro anche mia madre 1 a 0 il cigno ha fatto il movimento scarico verso col col vuole far vincere la betta isi il cigno di sarajevo decide di servire un assi splendido per r9 che mette in banca al 2 a 0 frustrati perché riescono a mettersi solo 30 centimetri in culo del loro cetriolo da 45 i tuoi beats saranno al sicuro per dopo e ci mancherebbe porco dio il cigno buca le mani a ioris sì anche questa settimana 20 0 per un totale di 40 0 totalizzato in weekend league primo pic del 40 0 pog procediamo dammi l'altro terzino infatti i miei pics sono maledetti ragazzi i miei pics sono maledetti un tributo a franco armani ovviamente andiamo a vedere qua va ultimo pic me l'accollo me l'accollo me l'accollo ma non mi serve un grand capi devo dire la verità raga buoni dai diversi diversi 3 pic strani non li ho mai non ho mai beccato 3 pic così 3 pic particolari dai pancchetto ultimi pancchetto ultime seum è in cala vabbè buono buono cross ti ringrazierei molto mattia smania grazie in anticipo figurati in oro grazie a te com'è danjou ma forte perché juist sta iniziando a sospendere gente a caso appena arrivato perché juist benedì sta in norvegia più o meno oh tre walk out kim pembe james ieri asti asti cazzo vuol dire asti asti pacchetto ultimate secondo ma baffa culo va porca troia oh gazdag pure dalla mia cazzo di zatdag uh 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 bene 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 calma butta giù un po' di gente inutile si può buttare giù un po' di gente inutile dovrei buttare giù da so mi dovrei buttare giù da solo iniziare a buttare giù guz fiorix pasquale un po' di gente un po' di robe inutili andrebbero andrebbero buttate in giù il bot non aveva letto tutto il messaggio suga comunque secondo te è forte il jango ober no perché mi ispira molto solo che non ha né il 5 di skill né il 5 di debole noro stai nominando il contenuto che devi editare anche tu ti dico solo questo giusto roga e qua tiro giù i bros james su giusto guarda il gesto ho fatto il gesto ho fatto vabbè tocca riprendere casemiro dai tocca tocca riprendere ho fatto pure su e giù tre volte come i coglioni vabbè tocca riprendersi casemiro dalla web app è poco da fare perca puttana che è bruciato gli volevo ricordare che oggi è venerdì sera quindi anche venerdì dio cane figa nastro dio porco primo pacchetto da tre if su le mani ok poca roba ciao me del futuro che starà editando questo video mangiando del mango essiccato poca roba poca roba poca roba io ti dono i miei soldini e i tuoi mod mi sospengono spero tu non li paghi dovrebbero pagare loro a te perci gli dai qualcosa da fare nella loro inutile esistenza a u a u flat simone si mette si mette a ferre il fuoco contro la moderazione male simo molto male secondo pacchetto da tre if via di nuovo walk out brasile di nuovo cc shadow ha bannato simone motivo simone non ha capito un cazzo caputana porca l'ultimo tre if il giro di boa buono molto buono a forte mamma che pic di merda vabbè acrem però correa raga bene bene correa eh ho sbaglio bene 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 ma guarda come offrono 44 per correa bene bene benissimo ottimo ma soprattutto la cosa più importante anche venerdì dio cane figa nastro dio porco anche venerdì dio cane figa nastro dio porco